Uno spazio per le donne dove vince l'associazionismo e la solidarietà nei locali dell'ex asilo filangeri. La Casa delle Donne è un'associazione di promozione sociale che ama definirsi laica, apartitica, antisessista e antirazzista, formata da donne singole, gruppi, associazioni e cooperative. Costituitesi nel novembre del 2011, l'associazione oggi conta 120 iscritte dallo scopo di riunire donne di ogni età, estrazione sociale e appartenenza politica, per promuovere iniziative per l'orientamento delle donne nel lavoro, per favorirne la cultura ed offrire sostegno a chi vive in situazioni di disagio, ma anche per aiutare contro la violenza, le discriminazioni, le molestie e le persecuzioni che derivano dal diverso orientamento sessuale. All'inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori alle pari opportunità e al patrimonio, Tommasielli e Tuccillo, ed alcune donne dello spettacolo come le attrici Cristina Donadio, Antonella Stefanucci e Rosaria De Cicco, che hanno recitato storie di donne vittime dell'emarginazione, della violenza e della discriminazione. Si tratta in ogni caso di una sede temporanea. A fine marzo sarà in consiglio la delibera che destinerà il 25% del patrimonio immobiliare incomodato d'uso alle associazioni. Poi verrà pubblicato il bando e da primavera inoltrata si potranno avere le prime assegnazioni definitive. Tante associazioni di donne napoletane, associazioni anche storiche, che da anni lavorano appunto nel tessuto sociale contro le discriminazioni di genere, mettono assieme all'istituzione le basi per l'istituzione della casa delle donne che in effetti deve rappresentare il luogo dove tutte le associazioni si incontrano e elaborano progetti e proposte per la città. Credo che sia un'iniziativa meritoria perché soprattutto un luogo in cui le donne si incontrano per affrontare le tematiche della città, ma non solo, quello del ruolo della donna nella società e nel confronto su temi in cui le donne sono protagoniste. Quindi è importante che l'amministrazione comunale oggi sia dalla loro parte e quindi dalla parte di tutti i cittadini secondo il principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.